Sono davanti alla facciata di Santa Maria Novella a Firenze, sono passata di qui intorno alle 8 di mattina ed eccomi di nuovo intorno alle 12 ad ammirare l'equinozio di primavera, che indica al giorno il momento esatto in cui la notte e il giorno hanno la stessa durata, grazie all'armilla equinoziale di Ignazio Danti. Uno strumento astronomico formato da due cerchi di bronzo di 1,30 m di diametro, perfettamente perpendicolari tra di loro, che proietteranno sulla facciata ombre a forma di cerchi allungati nei vari giorni dell'anno, eccetto che nei giorni degli equinozi, quando ammireremo un'ombra a forma di cruce, al momento del mezzogiorno solare. Strumento utilissimo, poiché conoscendo il giorno dell'equinozio di primavera, si poteva poi calcolare il giorno della Pasqua cristiana. Buona primavera a tutti e buona Pasqua!